E ora, signore e signori, abbiamo Connor, questo piccolo ragazzino. Fatta venire a Della Australia, fate un grande applauso, guardate questi bambini, questi giovani. Mi sono permesso di chiamare Connor Bambino, quello un vero uomo, a mia sua centra, adesso si mangiò la chiesa. Oggi, oi, 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 o Voi! 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 Voi continuare, Brandon! Voi! Voi, Jake! Voi, Brandon! Voi, Jake! Voi, Jake! Voi, Jake! Jake, Julian! Voi, Julian! Take it down, Julian! Come on, Rob! Go, Rob! Come from here! Voi,센buro! Come on Julian, come on Julian, take him down Come on Julian, come on Julian! Oh good one Jake, yeah! Come on! Come on! Come on, come on! Give her away from you! Stay up Jason! Take him with you! Stai con noi! No! No, no, no! No, no, no! Oh, hang on!